Edita, una nuova iniziativa della Fondazione Carifano che quest'anno raggiunge il terzo anno di attività. Quest'anno viene riproposta con una formula diversa rispetto agli anni passati. Quest'anno invece la situazione cambia. Presidente Gragnola, a cosa si deve il cambiamento e in cosa consiste? Il cambiamento è stato suggerito dalla produzione di queste opere che ci sono state fornite nelle edizioni precedenti. Abbiamo pensato di cambiare questa formula, di aggiornarla, sempre con l'obiettivo di scoprire nuovi talenti, aggiornarla e dare un valore aggiunto ai giovani che sono interessati a questo tipo di iniziativa perché avranno la possibilità di confrontarsi, di stare una settimana insieme con uno scrittore professionista che in questa edizione è Matteo Cellini, il professor Matteo Cellini, che è uno scrittore con un riconoscimento a livello nazionale molto importante perché ha vinto il Campiello, è stato finalista del Premio Strega, è uno scrittore del nostro territorio perché è uno scrittore nato a Urbino che insegna a Urbania, che appunto con questo bando, dopo la selezione che verrà fatta dai soggetti che riterranno di partecipare candidandosi a questa iniziativa e quindi questi giovani avranno un'occasione unica perché questa penso che sia un'occasione molto importante, quella di interloquire, confrontarsi, e argomentare insieme a uno scrittore professionista e nel corso di questa settimana, che sarà appunto la prima settimana di settembre, potranno produrre insieme un lavoro in base a quello che poi verrà indicato anche dal professor Cellini che verrà poi pubblicato anche dalla Fondazione. Quindi questa penso che sia un'opportunità importante per i nostri giovani. Sì, è rivolta ai giovani, quindi c'è anche un limite di età. Sì, giovani perché il limite che abbiamo, l'intervallo che abbiamo preso in considerazione è 18-35 anni. Questa non esclude la possibilità a dei giovani che abbiano già pubblicato altre opere ma che ancora non sono diventati famosi, che vogliono insistere in questa loro attività, di percorrere anche questa occasione. La Fondazione, in modo assolutamente gratuito, consente perché gli oneri li sostiene tutti la Fondazione, dà anche l'ospitalità a tutti quei candidati che parteciperanno al workshop che hanno la residenza più lontana di 30 chilometri dalla sede della Fondazione e verranno ospitati per questa settimana. Quindi penso che sia un'occasione importante per giovani che vogliono pensare al loro futuro in questo ambito. Fino a quando sarà possibile fare le domande, Presidente? Il bando scade l'11 di giugno del 2024, quindi il prossimo mese.